va bene ragazzi qui sembrerebbe che oh guarda questo ma cavole oh ma mi lasci bello a tutti ragazzi e benvenuti insomma nel vostro Matimars riprendiamo il nostro secondo episodio con Cloudpunk perché sono molto curioso come avevo detto anche precedentemente di come si sviluppa soprattutto la giocabilità del gameplay di questo gioco perché come atmosfera a me piace molto questo cyberpunk un pochino dark a me piace molto nel primo gameplay se non l'avete visto vi invito ad andarlo a vedere abbiamo fatto due o tre consegne di pacchi sospetti adesso perché noi abbiamo una linea guida quindi come una sorta di tutorial rappresentata da un vecchietto che ci ha detto al momento di andare a fare il checkpoint quindi ci insegnerà a fare il checkpoint non fate caso alla macchina all'auto un po fumante perché sono andato a sbattere un po troppe volte non per colpa mia perché sono un bravissimo pilota ma per colpa del vecchio che ecco come potete vedere la mia agilità è fenomenale non so cosa sta facendo vorrei partiggiare sotto ma perché a son di leggere il vecchietto lì che mi parla tre ore e mezzo ma te vai avanti no scusate devo un po' ecco di prendere i tasti ecco di prendere i tasti guardate la signora vediamo la sua licenza di città o la sua contribuzione volontaria io spero che le persone si chiamate le bambini cosa è quello? nulla cosa, l'officio, qui sono i miei dettagli ok, devo creare un nuovo record per te e poi... guardate, faccio un messaggio nel mio cuore sì, agente Rio no, signora, sua nome è Rania Cloudpunk? non credo, signora sì, signora, io le chiedo sì, signora, io le chiedo sì, signora, io le dirò se crede che sia liebata ma'am, sei ora, o sei sei tu o sei o sei sei una parte del servizio illicito di servizio no, signora Cloudpunk? non ho mai ho detto guardate, per favore sì, signora, lei dice che non ho detto io credo, signora ok, signora, io le let her through e io... lei può me sentire sì, sì sì ok, allora faccio questo signora, sì signora ok, signora, puoi andare i vostri dettagli sono stati updatati quando ho scannato l'idea, il nostro servizio ha detto che sei un musicista dell'esterno peninsola vuoi spiegare un po' di musica? magari un'altra volta quindi nel futuro basta mentire che sei a posto non c'è bisogno di fare nient'altro e devo ritornare questo simboletto roba strane quindi niente, mi sono fatto registrare perché non ero registrata guarda non lo so, per il convegno medico non ho idea andiamo nel mio catalogo fumante e adesso il tuo personalità custom automata è pronta per l'instanciazione vorresti attivare il camis ora? camis sì, per favore attiviamo il camis rumori di caricamento ding camis, sei tu? non va come un cane ma come un cane ma come un cane che sono io? se mi sono sono... strano sono un cane sei uno del mio. automata oh un cane è parlato nel lato ero un figlio male? Non, ero il migliore, Camis Sono solo una hova ora, non è così buono Lo so, lo so, lo so, ci prendiamo un nuovo corpo, prometto ci prenderà un tempo, ho un nuovo lavoro Tu non giochi ancora più musica? Mi piace musica Me, anche, Camis, ma abbiamo bisogno Abbiamo perduto la casa, ho dovuto trasferirlo a Nivalis Non, per no Non si tratti, non si ritrovare Non stagiamo, magari non si traciamo così buono Sto facendo delivine, noi stiamo per delivine Sto ai 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 Là il slot di un ogale di Hova di umano È una voce di un pocc الإcchiare e il hardware funziona a un ciclo più alto, quindi potresti prendere l'acqua un po' di tempo. Non capisci. Le funzioni di operazione più alta sono multithreadite, ma questo non è supporto con il hardware che abbiamo. Uh... Questo significa che potrebbe prendere un po' più lungo per capire le cose. Ma tu sarai lì. Mi sono dormito. Ok, resta per ora, Cammas. Cioè, lei ha messo il cane, che una volta forse era vivo, dentro un programma, però il cane che ha un programma si ricorda di quando era vivo e c'è pure solo. Parla. Oh, dammit. Sorry. We need you to pick up a package from Cambria Heights. It's a residential zone. I'm sending a nav point now. Ok, on my way. Wait. 14 FC. Is there a problem? No, never mind. Good luck. Si sta capendo tutto molto strano, direi. Però io non vorrei che fosse tutto di... Cioè, noi facciamo il corriere di pacchi strani. D'accordo. Poi... Cioè, l'evoluzione qual è? Avanti e indietro tra i palazzi. Una piena di palazzi. Una piena di palazzi. Tant'è un programma che c'è solo. Ma ho lasciato a quanto... ...stranito. Il problema comunque rimane il parcheggio. Di secoli di secoli. Il problema è sempre il parcheggio. Certe cose non cambiano mai. Che bello. Poi voglio capire quando posso riparare la sua nave. Dove, come... Mi sembra non esserci proprio il parcheggio. No. No. Più in basso non va. Ma io qua non ho spazio. Dove, dove il parcheggio. Più in basso non riesco andare. No. 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 Just kidding. No. Ma io ora non posso andargli da... Posso? C'è anche segnato sulla mia mamma Control, sono a destinazione e nessuno è qui Control? Camus, sono inutile? Sì, sono inutile! Sono inutile! Voglio aiutare! Potete scannare l'area? Scannare l'area, scannare l'Italia C'è una città di ID C'è una città di disponibilità Non vedo come... Vedo come... C'è una città? Una città è una città. Non! C'è una città? È là lì! Ok, vedo! Penso che è la città! C'è nessuno qui? Mi sento anche, Camus Buona Cremus! Non portare l'ugno, eh! Quindi... Non deve succedere qualcosa di brutto? Mi ritira poco a Cambria Ho capito! Non c'è nessuno... Ah, è qua! Noi ritiriamo... Non puoi! Dobbiamo anche riparare il ruido, no? a I here noise what noise Kanness Oddio la bumba di Portaccia Tic a casa E' La BOMBA 1 seconda Kanness Control come in Control this is driver 14 F.C come in this is important Driver 14 F.C This is control Sì, 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 andammi l'indirizzo. La ticchetta. Una ruoccia. Una bomba? Una bomba. E' come the package. Deliver it quickly. That is all. Please. No more communication until delivery. Chêmics, but I don't know what to do. I am nervous. Why? I am nervous. Because you are nervous. Maybe we can throw away the TikTok. TikTok, 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 TikTok. Maybe I can dump the trash chute in section 8B. That sends it into the Refuge's collection at the base of the city. non è mai tornato da qui il signor controllo sarà freddo? sì, ma ho una sensazione anche buona penso che sarà buona in ogni modo voglio aiutare ma non so cosa fare lo so, camis, lo so devo solo fare una chiamata quindi lo devo consegnare poi lo devo buttare io lo consegno gli scoppiarsi in mano a lui quali si leva da Maroni ah, forse questo ripara ma sarà il caso di riparare il veicolo con una bomba in mano ma meccanico ho un po' di urgenza ripara o uva scia rossa realizza gli scarichi per gli uva di una scia rossa però siamo nel rosso paraurti d'acciaio antenna retro puramente cosmetica non c'è tanta roba però no no, sto spettando non lo so non è che ci sia granché Aspetta che c'è una bomba di scoppia in mano. Frena! Frena! Fai qualcosa? Ma non c'è un parcheggio più vicino? Ma perché c'è sempre un parcheggio allontano? Eeeh... no, cinquanta... dovrebbe essere qua. Ah, sì? Non è di qua, porca voi, di là. Sì, ho sbagliato il parcheggio un'altra volta. E' dietro il palazzo, no? No, anch'io sono il palazzo. Città futuristiche, non ci capisco più niente. Parcheggio e parcheggio. E poi mi sono anche allontanato per tutto. Accoglio. Che va bene. Una scheda perforata e ricoperta di buchi. Sembrano casuali ma c'è uno schema... La scheda di per sé è spessa e pesante. Aspetta di poter resistere anche a un'esplosione. Poi ho preso anche la droga non volendo. Il paraurti però non l'ha applicata. Il flauto... E' un fiore brutto. Ma c'era un parcheggio vicino, forse eh. E avrei una bomba da un... Perchè non è tutto. Abbiamo fatto il lavoro, Camis. Non dovremmo spiegare tantissime domande. Non mi sicuro. Vuoi dire qualcosa? Se è bene? Se è bene? E' questo un lavoro... bene? E' bene. Ci facciamo bene cose? Non più domande, Camis. Ok. Ok. Ma ora dove ho messo una macchina? Non mi ricordo. Cioè non mi ricordo. E' tutto uguale qua. Dove è? E' segnata? Ok. E' uguale. DRIVER 14FC, questo è il controllo. Questo è il lavoro. E' qualcosa che vuoi dire a me del lavoro? Non. Non. Niente. Ok. Allora. Sì... 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 No. Sì... sicuramente, come vedete... la scuola, non ci aveva un codice di accessi, ma... Tu sei un vecchio smart. E' un vecchio storico... Senti di qualcosa. La controlla è stata. va bene ragazzi qui sembrerebbe che oh guarda questo ma cavole oh ma mi lasci che pezzo di questo ma è un attentato questo va bene ragazzi io direi che per il momento possiamo anche terminare qua io non so se andare avanti ragazzi perché se il gioco è unitamente questo secondo me è una grande idea sprecata un po' malino perché se il gioco è solamente fare le consegne avanti e indietro si ci può essere una loro interessante tutto quello che vuoi ma il gioco è un po' un po' troppo semplicistico questo mi direbbe che si sviluppasse in maniera molto concreta perché come idea di base a me piace molto e quindi niente io direi per il momento di concludere questo secondo episodio poi vediamo se farne un altro oppure no io magari andro un po' avanti off camera se il gioco va avanti in maniera interessante magari faremo un altro gameplay altrimenti dopo concludiamo qua va bene così quindi si piacerebbe perché ripeto come ambientazione è molto molto carina a me piace molto però può anche diluppare in una certa maniera quindi io per il momento vi ringrazio e ci vediamo a tutti ciao a tutti